Quando eravamo lì sopra Calizzano il freddo era tremendo e ricordo che un giorno c'era uno di Sorrento, era gravissimo, broncopolmonite, eravamo andati, cosa ci fai? Lo compravamo di coperte, tremava come una foglia proprio dal freddo, nel bel momento abbiamo deciso abbiamo detto andiamo a cercare un dottore, mi ricordo che io insieme altri due siamo andati a Bardinetta a cercare un dottore che non l'avevo mai visto, era un torinese, un dottore tra l'altro simpatico, parlava sempre dieci parole, otto erano in torinese, le mettevano, ho detto dottore guardi deve venire su perché abbiamo un malato grave e l'abbiamo portato da Bardinetto lì verso Calizzano, poi siamo saliti su ma sopra quella neva un bel momento è scivolato e si è spaccato sotto il ginocchio, la rotola, la pelle, si era rotolata, o che era spicchiato in qualche pezzo di ghiaccio o qualche puntone di roccia che usciva fuori, figuratevi mortificati lui ci ha fatto preso la neve con un fazzoletto si è legato intorno, viene su e dice, beh, è quel lì, dura poco, dura minga è quel lì, ci aveva dato da andare in farmacia a Calizzano di prendere un po' di aspirina, allora la penicillina non esisteva, non sapeva neanche cosa fuori, non c'era, e cosa ci fate? aveva detto, eh ci facciamo un po' di vino caldo bollito, ci davamo altro, conclusione che dopo alcuni giorni, ah prima che andasse via ha detto mi lo date per favore un ago con un po' di filo, pensando che si cucisse i pantaloni, invece si è tirato su i pantaloni, si è cucito la pelle, la pelle che si era rotolata, cioè si era cucita, si era cucito la pelle, l'abbiamo accompagnato giù e dopo qualche giorno, mi ricordo che ero di pattuglia giù in paese e mi ha visto mi ha detto, neanche un morto quella, aveva detto in torinese, è ancora morto quella e per fortuna non era morto, poi è guarito, uno dei fatti gravi di, ma i malati figura, metà erano ammalati via, bronchini, forti, forti raffreddori, una cosa spaventosa, unito alla fame.